Amico, vieni qua, guarda lassù, che c'è? Saremo nella prossima trasmissione, nelle ore 20, ulteriori particolari. Attenzione, attenzione, il comando supremo delle forze armate tedesche comunica il seguente bollettino straordinario. In seguito alla pressione delle forze tedesche, umene e italiane, il sistema difensivo dell'Ucraina occidentale è crollato. Le forze dell'Asse, il secolo illimico, travolgendo le ultime agganite resistenze. Grandi masse di pionieri cominciano ad affugire. Saremo nella prossima trasmissione,